Sono stati cordiali i colloqui tra Papa Francesco e Re dei Paesi Bassi, William Alexander, accompagnati in Vaticano dalla Regina Maxima. Al centro del loro incontro, come riferisce la Sala Stampa Vaticana, alcune tematiche di interesse condiviso, come la tutela dell'ambiente, la lotta alla povertà e il contributo della Santa Sede e della Chiesa Cattolica su questi fronti. Inoltre si è discusso del fenomeno migratorio, sottolineando l'importanza della pacifica convivenza tra culture differenti, dell'impegno comune per promuovere la pace e la sicurezza globale, con speciale riferimento ad alcune aree di conflitto e delle prospettive del progetto europeo. Al termine i sovrani hanno incontrato il segretario di Stato, il cardinale Parolin, e Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati.